Fonditalia con Giulia Stupac, ci troviamo a Lavazze, preparazione del gruppo Kramer. Giulia, come stai? Come va il training summer? Ciao a tutti, siamo tutti ok? Siamo in training qui, questo è un paese bello e ho venuto a Passo della Lavazze la seconda volta. Buona altitudine e ora tutto è ok. Potete descrivere questo gruppo? Perché è un gruppo particolare, un gruppo internazionale. È una buona idea, credo. È una buona idea per il nostro gruppo, perché è come un luogo fresco. Perché è buono per il nostro coach, per il Markos Kramer e per noi. Credo che per il futuro è molto importante per i russi atleti, anche per gli italiani e per la Teresa. Credo che è stata una buona idea. Credo che è buona idea per te trainare con Teresa Stadloba? È una buona atleta. Ovviamente, è una buona ragazza, ma non solo con Teresa Stadloba, ma anche con Federico. Perché ho detto molte volte che ha una buona tecnica e mi piace questa tecnica. e a volte ho visto e penso, ok, ho bisogno di qualcosa del stesso. E sì, è una buona esperienza. Do you like how Federico Pellegrino skills? Sì, ovviamente. Sì, ovviamente. È un grande talento, è la mia opinione. E sì, credo che è molto motivato e concentrato. Questo è molto importante per me e per tutti i nostri gruppi. L'anno scorso, l'anno scorso, potete immaginare che hai avuto la migliore season in tua carriera? Dopo il premio? Sì, questa season è stata la migliore. È vero. E è stata una grande sorpresa per me e non solo per me, ma anche per i fanci. Ma ora voglio fare un grande step per il futuro. Abbiamo l'Olimpico Games. E questo è molto importante. E non penso ogni giorno, ogni minuto che abbiamo l'Olimpico Games e devo lavorare molto. E questo è molto importante. E questo è molto importante. Abbiamo molto contatto con il nostro coach. E ogni volta che abbiamo parlato del futuro. E ogni anno. E abbiamo qualche plan. E spero che sia un grande passo per questo vinter. Ok, io sono un uomo, quindi non posso capire. Ma so che voi, Sorina, Marit Bjorgen, Biatron, Maredoren, o dopo la pregnazione hanno un buon risultato? Posso descrivere perché è possibile? Qualcuno ha cambiato? Credo che sia possibile. Ma dopo la pregnazione è la mia opinione che il corpo, magari il sangue o il corpo, non lo so. No, non, è 100%. E anche, in mio pensiero, quando sei a casa per circa 1 anno, senza l'inizio, non è così facile per l'athlete. E non voglio fare, non voglio fare, non voglio fare, non voglio fare. E questo è importante per il nostro cuore. E quando sei a casa, penso anche. Dat come solo lo stesso, che devi fare, tre fare, non voglio fare, non voglio fare, non voglio fare in fronte. Qualcuno può cambiare. E per la cosa cambia. Però anche per la settimana, sicuro. Non lo vedo, ci faccio. La notizia di calcolare. Sono molto un pulso. Il nostro corso spazio. Perché è la condizione di calcolare? È «L'alto faccio». Uno, tiriamo il nostro corso.